Maria Maddalena Il primo classificato verrà premiato dal sindaco Massimo Biancardi il primo classificato Creuso o Creuso Flavio Assindustria Rovico Un attimo che facciamo una partecipanti e chi ci ha dato una mano per poter svolgere questa gara quindi la protezione civile e ringrazio con Riccardo Mantovani il gruppo Avic con Sergio e la ministra Sordini e il gruppo Ciclisti Grazie e rivederci all'anno prossimo Grazie Grazie Grazie